Una boccata d'ossigeno per la formazione di casa che può ancora sperare di ribaltare il risultato. Ci sono i fischi dei tifosi di casa per le continue perdite di tempo. Io capisco ovviamente la difesa del vantaggio, ma qua stanno un po' esagerando. Marziao! Respinge il difensore. Giuseppe Rossi. Degovic. Occhio alla ripartenza. Pepito Rossi. E c'è il gol. Trovano la parità proprio alla fine. Palo-gol. Classico, come possiamo apprezzare meglio da questo replay. Non so onestamente se volesse angolarla così tanto. In ogni caso non è uscito fuori un gol di presevole fattura. Grazie a tutti.